Una radio SD, una radio digitale che ci permette collegamenti in fonia e anche in dati, quindi scambio di email tramite i nostri veicoli blindati che vedete qua fuori. Un'occasione per far conoscere da vicino ai più giovani la realtà militare. A lezione con l'esercito è stata l'iniziativa organizzata presso la caserma Ruggero Stella di Barletta, che ha visto il coinvolgimento di 200 alunni dell'Istituto Comprensivo d'Azelio De Nuttis. Partendo così dalla prima attività del giorno, l'alza bandiera, passando per la visita in caserma e arrivando ad ammirare le diverse tipologie di mezzi e materiali in dotazione al reggimento, i giovani scolari hanno potuto dunque vivere un vero e proprio viaggio alla scoperta del mondo dell'esercito. Consente all'operatore che scende dal VBM Freccia di poter operare e allo stesso tempo di inviare e ricevere dati tramite l'apparato radio, l'SDR. Questo invece è il VPC, diciamo che è il cuore del kit, da qui entrano ed escono tutti i dati. Siamo lieti e onorati di avere qui la scuola e questi ragazzi che sono e saranno gli italiani del futuro. Quindi è un grande privilegio, un onore averli qui. Oggi daremo a loro tutte le informazioni necessarie per colmare queste loro curiosità inerenti al nostro lavoro, quindi quello che facciamo, quelli che sono i nostri compiti istituzionali, come ogni giorno ci addestriamo per essere utili alla nostra nazione. A questo oggi daremo anche una connotazione sulla nostra professione, che è una professione basata su valori importanti come l'abnegazione, lo spirito di sacrificio, l'altruismo e quindi in questo siamo lieti di parlare a questi ragazzi. L'obiettivo è trasmettere ai ragazzi quello che noi siamo, quello che noi sentiamo e quelli che sono i valori della nostra professione.